Buongiorno a tutti, oggi vediamo come azzerare la manutenzione di una CLA-V117. Allora per prima cosa chiudiamo le porte, poi uno scatto di quadro strumenti, partiamo dalla schermata principale che è quella dei chilometri, premiamo contemporaneamente il tasto cornetta per rispondere e il tasto ok, ok, così entriamo nel menu officina, scendiamo fino ad Assist Plus, diamo l'ok, manutenzione generale, ok, andiamo sotto su conferma manutenzione, diamo sempre l'ok, scegliamo il tipo di olio che è stato utilizzato, in questo caso 229.51, diamo l'ok, confermiamo il reset, ok, così dovrebbe essere resettato, andiamo a controllare, ok, manutenzione resettata, grazie a tutti, al prossimo video!